Ed eccolo qui Alessandro Micheletto, va cortissimo, trova l'Aleys su lungolinea, si scusa con i suoi compagni, Guantoreno ma era difficile da capire. Grande mano di Alessandro, mamma mia, per un mancino mettere una battuta corta lì è veramente difficilissimo perché sarebbe stato più semplice in quattro dando un po' di rotazione ma riportarla lì per lui poi che si lancia la palla un po' già in diagonale è veramente difficile, super battuta, infatti Usmani non se l'aspettava, non è neanche partito ma tutti i meriti del mondo ad Alessandro Micheletto. Grazie